Dance Mission, siamo con l'insegnante Veronica, abbiamo visto i ragazzi ballare prima, sembrava facilissimo, invece? Invece è molto dura, infatti ci vogliono mesi di preparazione, ovviamente questi sono ragazzi che sono all'interno di un corso di agonismo, quindi fanno un percorso personalizzato, ma ci sono corsi dove possono appunto partecipare tutti, dai più piccoli ai più grandi. Che tipo di corsi ci sono? Qua ci sono tutte le discipline, dall'hip hop al fitness, latinoamericani, video dance, danza moderna, hip hop, tip tap, flamenco, io insegno danza moderna, video dance e hip hop ai più piccoli. Com'è il tip tap? È una danza bellissima che coinvolge tutti, più piccoli, più grandi, ha origini lontane, più lontane di quanto si pensi, ma è ancora attuale, non è molto conosciuta ma fa divertire tantissimo la gente. Com'è il fitness? Il fitness apre il cuore, il fitness è un'attività aperta a tutti, infatti qua alla Dance Mission non abbiamo solo le attività di danza, ma proprio esercizio fisico, grandi, bambini, nonni, mamme, tutto. Alla fine del viaggio nella Dance Mission siamo con la direttrice, la signora Raissa. Com'è nata l'idea di questa scuola? La scuola è nata 11 anni fa, vengono bambini da 3 anni e mezzo in su fino a 70 anni e da noi imparano non solamente la danza, ma anche altre discipline, come avete visto fitness, c'è anche il canto, c'è anche la recitazione di cui l'insegnante sono io. Però la Dance Mission ha parecchi fiori all'occhiello, quali? Due piccole 10 anni che avete visto del corso di agonismo che hanno fatto il provino alla RAI sul programma su RAI 2 e da novembre andrà in onda dove loro parteciperanno. E non è solo questo, concorso Mi Danza dove porteremo i nostri ragazzi con i vari assoli, passaduo, gruppi di diverse discipline di danza. Vi aspettiamo tutti qui da noi, ciao ciao. Grazie a tutti.